È difficile scegliere. Che devo fare? Leon è il mio primo bacio. Adesso manca solo una cosa. Però Thomas è il mio primo amore. Non ti dimenticherò mai. In qualunque posto io andrò. Il mio cuore è diviso in due. Come posso fare? Tu che sceglieresti? Vai sul sito di Disney Channel e fai la tua scelta. Chi tra Thomas e Leon è il tuo preferito? Per scoprire invece chi sceglierà Violetta, segui i nuovi episodi che tornano con un nuovo orario dal 26 novembre alle 20.10 e in replica alle 14 solo a Disney Channel.